Che cos'è il credito d'imposta? Se vendi un'abitazione con le agevolazioni prima a casa e ne acquisti un'altra avente gli stessi requisiti, hai diritto a un credito d'imposta, che è pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato. Questo credito puoi utilizzarlo per la diminuzione dell'imposta di registro dovuta per il nuovo acquisto. Mi raccomando, se intendi utilizzare il credito d'imposta in detrazione dall'imposta di registro, devi manifestare questa volontà in atto. Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa non ti spetta se hai perso l'agevolazione prima a casa, se hai acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, cioè senza usufruire del beneficio prima a casa e se il nuovo immobile acquistato non hai requisiti prima a casa.